interpretando un dio rosso a cosa pensi ti sia servita questa esperienza sono carlotta credo che questa esperienza sia stata decisamente illuminante perché ho sempre immaginato e pensato alla danza come forma di performance e al canto e alla recitazione come cose separate e invece in questa produzione le ho messi tutti assieme grazie buongiorno a tutti mi chiamo io in tian ghi nella questa scena io recito uomo bianco e uomo elegante per me questo lavoro è molto molto importante perché possiamo imparare come funziona nel teatro anche unione con altri insieme ciao ragazzi sono già in questa scena in questa scena interpreto il teos un numero molto importante sono molto contento di essere coinvolto nella produzione di prometteo non ho mai fatto uno spettacolo così importante così interessante e non ho mai lavorato in teatro questo spettacolo per me sarà molto utile per mio futuro perché vorrei lavorare in teatro grazie avremo successo ciao a tutti e tutte sono francesco rossi in conservatorio studio pianoforte e questa per me esperienza completamente nuova perché non avevo mai avuto modo di assistere ai retroscena della spettacolo infatti qua sono maestro di palcoscenico ma poi mi è stato anche dato un ruolo che è l'uomo della discarica l'uomo solo e per me davvero incredibile perché non avevo mai assistito a tutto ciò ho avuto modo di vedere quante persone lavorano dietro le quinte cosa c'è da fare tutto il lavoro che c'è dietro e secondo me questa è una cosa davvero importante anche per me per gli altri perché in realtà nessuno di questi attori ma abbiamo fatto un grandissimo lavoro ciao a tutti mi chiamo Gigi grazie al conservatorio per darci l'opportunità e questa esperienza preziosa di questo spettacolo in questo momento speciale abbiamo superato la difficoltà abbiamo lavorato insieme per questo spettacolo buongiorno qual è stata la tua esperienza in questa produzione buongiorno allora la mia esperienza in questa produzione è stata quella del dio rosso è uno dei personaggi principali e sono molto contenta perché finalmente posso mettere in pratica gli insegnamenti che mi sono stati dati durante il corso del mio corso di studi per quanto riguarda l'arte scenica quindi trovo che sia stata un'esperienza molto utile e sicuramente anche riutilizzabile in futuro buongiorno interpreto un uomo bianco questa volta del spettacolo è un'esperienza completamente nuova e fresca per me a trasverso il nostro lavoro duro e serio la domenica sarà un grande gioia e grande successo grazie mi chiamo il mio personaggio è donna eccentrica questa questa recita molto importante è un grande occasione per me perché mi piace recitare uscirò il mio cuore per mostrare il mio personaggio ciao a tutti io sono federica cassetti e interpreto una donna bianca per me questo spettacolo è molto importante perché sono una persona timida e negata nella danza e collaborare con una coreografa mi dà l'opportunità di sbloccare delle mie debolezze dei miei blocchi verso questo verso questo mondo credo inoltre che tutti i cantanti lirici dovrebbero provare proprio un'esperienza del genere per far per esprimere al meglio il loro personaggio anche nella versione corporea